Allora Eccoci Ciao Igor, mi senti? Ti vedo Sì, ti vedo e ti sento Bene, meno male Allora, aiuto Zì, vediamo un pochettino Se girandomi Io riesco a vedere anche un po' meglio Più o meno Che cazzo ho combinato qua Ok, no Meglio vedermi dritto Ok Allora È la prima volta che uso questa Autonomamente L'altra volta ero stato in vivo Quindi vediamo un pochettino come funziona Qualcuno mi manda un messaggio per vedere se si vedono i messaggi Per vedere dove mi compaiono Che così posso anche magari rispondere Ok Ok Antonella mi scrive ok si sente Quindi Grande Antonella Ci si vede e ci si sente Bene, bene, bene Bene Ti saluta Antonella Dice ciao Fede Ok Ciao Ci siamo C'è alcuna posizione Allora Eccoci qua Sono duro con la schiena ragazzi L'età L'età Più che altro mio figlio piccolo Che l'ho dovuto tirar via Da Si voleva buttare in mare Stamattina E ho fatto un movimento Un po' brusco Quanto ha adesso piccolo? Piccolo ha due anni e mezzo Quasi tre in realtà Ed è veramente Se l'altro era il Buddha Questo è qualcosa di simile a Lucifero Capito? Perché Tante tranquillità Lo dicono tutti i genitori dei primogeniti bravi Dicono il secondo Se sapevo Oppure fosse stato il primo Il secondo non sarebbe mai arrivato È proprio così È proprio così Comunque Vi vogliamo bene per questo Per la sua eroetta Finché la mia schiena regge Oh sì Oh sì Allora Eccoci qua Vedo che c'è già qualcuno di connesso Nonostante i problemi tecnici di assestamento Oggi siamo qui a presentare Vediamo dove lo inquadra la telecamera Intervista col Buddha Di Federico Traversa Che è un gran bel libro Me lo sono spulciato in più Aprendolo Mi sono beccato La La dedica Con scritto Relax tutto scorre Che è stata Perfetta per il momento in cui l'ho letta Grande fede Grazie Eh ma poi se gli stagini arrivano quando stavano Assolutamente Quindi Grande libro di Federico Traversa Pubblicato con Punto d'incontro Ve lo metto di nuovo visibile Che così potete Abituarvi alla sua copertina Fede raccontaci Anzi Racconta come sei arrivato qua Qual è il percorso precedente Beh Intanto devo dirti che Questo libro è Tra i libri che ho fatto Questo forse Molte volte Sai si scrive Per una necessità Perché Un po' per l'ego Un po' perché Magari Uno sente una necessità Fisiologica Di scrivere questo libro Invece Credi Migori è arrivato Davvero Con l'intento Di dare una mano Di dare il mio contributo Perché Io La mia vita Nell'ultimo anno Ha finita completamente Sottosopra Cioè proprio all'improvviso Io ho ricevuto Una riga di schiaffi E Che Me l'avessero detto Prima di riceverli Non avrei pensato Di riuscire a superare Prima si è ammalato Mio fratello Che purtroppo Ci ha lasciato Lo scorso luglio Ed è stato Un percorso di malattia Lungo E' terrificante Contemporaneamente Si è ammalato mio padre Si è fatto quattro mesi Di ospedale E' arrivato il covid Cioè ci sono state Tutta una serie di cose Che ci siamo trovati A gestire fondamentalmente Io e mia moglie E con due bambini piccoli E nessun altro Tipo di aiuto E A quel punto Mi sono reso conto Che gli anni a meditare E lo studio Comunque Della filosofia buddista Ma non tanto Come filosofia Dalle speculazioni Filosofiche Ma proprio L'applicazione Pratica Del messaggio buddista Me lo sono ritrovato In quei momenti Cioè io ho iniziato A staccare la spina Delle seghe mentali Che prima mi facevo E ora ho ripreso Ovviamente a farmi Ma in quel momento Sono riuscito A congelare Tutti i pensieri E a concentrarmi Nel tempo presente Nel vivere nella realtà Nell'affrontare le cose Riapplicando Proprio Quella filosofia buddista E insomma Mi ha fatto passare Questo terremoto Che per carità Nella vita Capita sempre di peggio Però per me È stata Fino ad oggi La prova più importante Che mi sono Sono stato chiamato Ad affrontare A quel punto Quando ho realizzato Quanto funzionava Questa roba Ho detto No non esiste Io devo assolutamente Condividerla Con qualcun altro L'ho scritto Proprio durante Il primo lockdown Avevo fatto Tra l'altro L'intervista Col Buddha Che intervista Appunto Che il professor Dullos Cesare Giacobbe Che per primo Ha proprio teorizzato L'applicazione psicologica Del messaggio buddista E poi L'ho L'ho mandato A un editore Il punto d'incontro Perché mi piacevano Mi piacciono Le loro edizioni Libiche pubbliche Ne abbiamo anche parlato Tante volte Con Teddy Beria Sì Quanti saggi indiani Mistici E devo dirti Io gliel'ho mandato Ma è successa Una cosa del genere Gli ho mandato Il libro Al pomeriggio L'indomani mattina Mi hanno telefonato E Quindi è stata subito Una cosa Cotta e mangiata Ho solo chiesto Che il prezzo Fosse basso E loro hanno accettato Infatti esce A 9,90 euro Perché per me Deve arrivare A tutti Addirittura L'acconto Che mi hanno dato Io non ho chiesto I soldi Ho chiesto I libri Che regalo I miei amici Che sono nei casini In difficoltà Perché veramente Per me Questo è il mio modo Di condividere È una cosa È una cosa che ho imparato Tutto qua E il percorso Pre schiaffi in faccia Raccontaci un po' Di Don Gallo Raccontaci un po' Di cose divertenti Anche un po' Di aneddoti Perché ogni tanto Me ne molli una Che soprattutto Sul Don Che fanno Fanno veramente E cappottare E poi io me le rivendo Perché sono troppo belle Beh tu mi racconti Quelle su Roll Che io mi rivendo A Genova Beh con Don Gallo Diciamo che tutto È iniziato lì Poi Con cui stavamo scrivendo Un libro insieme Un personaggio abbastanza Incredibile Pensate che lui viveva All'epoca In questa Nel bariocino A Barcellona E quando io arrivai Dal porto Lui si dimenticò Di venirmi a prendere Quindi arrivai Sotto casa sua E salì le scale C'era un televisore Per terra In mezzo alla strada Lo scavalcai Due tipi Che cercarono Di vendermi Qualche busta L'ingresso Feci le scale E davanti a casa sua C'era scritto In questa casa Il sesso è gratis E io suonai il campanello Quello fu il mio ingresso Nel mondo di Tonino Che al contrario Nell'apparenza E poi era una persona Strepitosa Meravigliosa Di cuore umana E nel mio Nella mia Tempo Trascorso Con lui a Barcellona Mi fece conoscere Manu Ciao E appena Manu Ciao All'un bar Che si chiama Mariachi Un abetto Sempre lì Nel centro di Barcellona Dove si suona Si beve Ci si diverte E Manu Ciao Mi disse Tu sei di Genova Quando torni in città Vai a salutare Il mio amico Don Gallo Lui è uno di noi È uno del Puello Io Don Gallo Lo conoscevo di nome Nel senso che Ahimè tanti amici Con problemi di dipendenza Erano passati Nella sua comunità Ma non lo conoscevo Di persona Quando con Tonino Carotone E poi è uscito il libro Abbiamo fatto il tour italiano Per presentarlo E siamo passati a Genova Nel frattempo Con Tonino Siamo diventati amicissimi Ha anche suonato Il mio matrimonio Pensa un po' E' bellissimo Felicità Opre la porta Guarda me Guarda Tonino Guarda Feluc Quanto ben di Dio Entrate ragazzi E da lì Entrammo con Don Gallo Subito Sapendo la fama Di forte bevitore Di Tonino Chiamò i suoi ragazzi Porta due bottiglie di vino E insomma Finì così Quella giornata Nel senso che A chiacchierare A parlare A dividere ricordi Anedoti E amicizia Con Don Con Tonino E da lì Poi venne anche l'idea Di scrivere Poi un libro Insieme col Gallo Perché lui aveva appena pubblicato Con Mondadori Angelicamente anarchico Ma in quel momento Se senti casino È mio figlio Che è riuscito a entrare In camera Ora lo Se fa casino Lo stromettiamo È il satana Di cui vi parlavo prima No no ma lascia Lascia I bambini Sono Sono ben accetti I miei clienti Ormai si sono abituati Alla presenza di Aurora E dei suoi giocattoli Sparpagliati ovunque Quindi Non ci facciamo assolutamente Problemi Ma basta brava Non mica tanto Non ho sentito Vista buona Quando vengo in Liberia Comunque Da lì è nata È nata la cosa Con Don Gallo Ed è fu carino Perché io in quel periodo Lavoravo con una casa editrice Piccolissima E quando gli ho proposto Di scrivere insieme Pensavo mi ridesse in faccia Gli ho detto No ti aiuto Passo dalla casa editrice Più grande A quella più piccola Perché io cammino con gli ultimi E infatti il primo libro L'abbiamo proprio chiamato Io cammino con lì Grandissimo Grandissimo Vi racconto un piccolo aneddoto Divertente su Don Gallo Questa primavera È stato buffo Fede ci siamo sentiti Per messaggio su quello La segretaria dello Sinn Féin Il partito irlandese Marie Lu Ha postato su Facebook Una scena Di una messa Con uno strano prete Che faceva cantare Ai fedeli Al posto Dell'alleluia Dell'osanno A quello che è Bella ciao Con scritto sotto Nel post Guardate come sono avanti I preti italiani Che cantano I canti di protesta In chiesa invece delle solite Canzoni noiose Allora io l'ho scritto sotto E ho taggato Federico Che lo conosceva bene Dicendo Sì È vero Don Gallo E Don Gallo è un prete italiano Però è un prete Un pochettino sui generis Normalmente I sacerdoti italiani Non cantano Bella ciao In chiesa Con il pubblico Ma guarda In realtà in chiesa Perché Don ho visto delle cose Io che non ero mai stato A messa Abbiamo cantato Redemption Song Di Bob Marley Insomma Mancavano il clash E poi avevamo fatto davvero tutto Col buon Andrea Tra l'altro Lo raccontavo stamattina Poi ieri è mancato il grande Diego Maradona Maradona Campione Di calcio E io mi ricordo proprio Quando Manu Ciauc Raccontò a me A Don Gallo L'incontro con Maradona Perché era Non mi ricordo Se il 2007 o il 2008 Manu suonò a Genova Val Gua Boa E come sempre Don Gallo Visto che erano amicissimi Andò a trovarlo Andai anch'io Che ero con Tonino Carotone Che anche lui suonava quella sera E insomma Tra le varie chiacchiere Poi Manu sapeva Che Don Gallo era genuano Quindi si parlava di calcio E gli raccontò appunto Dell'emozionante ricordo Con Maradona Insomma un po' Un cerchio che si chiude Maradona tra l'altro Che muore Lo stesso giorno Di Fidel Castro Di cui aveva un tatuaggio Sul polpaccio Non lo sapevo Visto ieri Ieri sera in tv Sì 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 Le cose La vita ti sorprende Tutto collegato Eh sì Ma veniamo Veniamo al Al libro in oggetto Vi dicevo Intervista col Buddha Scritto da Federico Pubblicato per Punto d'incontro Raccontaci un po' Struttura La storia La presenza Di Giulio Cesare Giacobbo Raccontaci un po' Guarda Giacobbe Io l'ho conosciuto Lo conoscevo Attraverso i suoi libri Perché sono assolutamente Illuminati Ho avuto la fortuna Di incontrarlo proprio Di persona Non mi ricordo Per chi l'avevo intervistato Comunque ci siamo presi bene Poi anche lui Era un amico di Don Gallo Perché poi È incredibile A me ogni libro Mi porta a quello successivo Perché È una cosa pazzesca Poi Don Gallo Era veramente È un po' Devo dirti la verità Un po' Il mio lascia passare Quando la gente Sa che ho lavorato Con Don Gallo Mi dà felice Persino mia suocera Te lo giuro Quando mia moglie Mia moglie Era una mia lettrice Ci siamo conosciuti In una maniera particolare Lei mi aveva scritto Perché non trovavo Un mio libro E da lì abbiamo iniziato A scriverci Dopo un anno Che ci scrivevamo Ci siamo incontrati Quando ci siamo incontrati Sua mamma Ma chi è questo Poi ero un po' Più grande di lei E ha preso fiducia Quando mi ha visto Alla televisione Con Don Gallo Quindi io Se ti devo dire Mi ha aiutato anche Lildon E mi ha aiutato Anche nell'incontro Con Giulio Cesare Giacobbe Che appena saputo Che avevo scritto Dei libri Col Gallo Ho voluto incontrare E da lì è nata Questa frequentazione E poi l'idea mia È stata appunto Come ti ho detto A seguito di questo Momento complicato Di portare su carta Davvero questa metodologia Psicologica A buddista Guarda il Buddha Al netto le speculazioni Filosofiche Lui in realtà Non è che faceva La gran filosofia Lui ti dava Un modo per non soffrire Quattro leggi Quattro nobi di verità Ok ci dice il Buddha Nella vita c'è sofferenza Ed è innegabile È innegabile Perché Tu dimmi se conosci Una persona che dica Sì sono felice Come una Pasqua Siamo sempre tutti O preoccupati per qualcosa O in cerca di qualcosa O abbiamo paura Di perdere qualcosa Eccetera 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 Non siamo mai soddisfatti Non siamo mai felici Su questo c'è una bellissima Storiella indiana Di una mamma Che ha perso il figlio È triste È sconsolata E va dal santone E gli dice Ti prego Inventati qualcosa Fai risuscitare mio figlio Allora il santone Gli dice Sì sì Non c'è problema Mi serve solo una cosa Mi serve solamente Il capello Di una mamma Che non ha sofferto Allora lei Inizia ad andare in giro Per il paese Bussa la porta Eh no Sai di qua Di là Di su Di giù Bussa un'altra porta Eh no Perché no Tu non hai idea Alla fine Dopo aver girato Tutto il villaggio E tutti i villaggi intorno Torna la santone E gli dice Scusami ho capito La sapevo Io la sapevo Con Sigha Tommy e il Buddha Però è assolutamente Una storia È brava Bravissimo Igor È proprio È proprio questo Però poi il Buddha Ti dice Ok però guarda Noi soffriamo Perché Non siamo a conoscenza Della vera Natura Ignoriamo la vera Natura della realtà Che è impermanente E interconnessa Cioè Perché noi soffriamo Perché noi Pretendiamo Che tutto rimanga uguale A se stesso Sempre Quando questo Non è possibile E ignoriamo Anche il fatto Che Se tocco Questo spigolo Oscilla Tutto il computer Perché è tutto collegato Però ti dice anche Occhio guarda Che comunque C'è un metodo Per uscire Da questa sofferenza Mentale Da 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 questo stato Di cose Ed è la pratica La pratica Dello tuplice Nobile sentiero Cioè Una serie Che non è altro Non sono altro Che una serie Di metodologie Psicologiche Per governare La propria mente E smetterla Di soffrire Perché la mente Come dice Un bellissimo Proverbio tibetano È una lama Puoi scegliere te Se a affettarci Imburrarci il pane O tagliartici la gola Lo scegli tu Quello che vuoi fare Con la tua mente Chiaro che se vivi Nell'inconsapevolezza Con la pretesa Di essere sempre bello Giovane Con la moglie innamorata Con i figli piccolini Con tutto che vada bene Sei Sei destinato A patire Le pene dell'inferno Allo stesso tempo Se non ti accontenti Di quello che hai Ma se tu inizi Ad applicare Questo tuplice sentiero Ora andiamo a vedere Nel dettaglio Ecco lì Che questa sofferenza Perlomeno mentale Psicologica La puoi eliminare Giacobbe Da psicologo Professore universitario Soprattutto psicologo Con 40 anni Di esperienza sul campo E soprattutto Igor L'ha detto una persona Che ha perso un figlio A 27 anni Di una malattia Rarissima Una malattia Cioè Sto figlio ha avuto L'influenza E è andato all'ospedale Ha sviluppato una patologia Non mi ricordo il nome È un nome difficilissimo Che fondamentalmente Gli ha mangiato i muscoli Nel giro di 3-4 giorni È morto Un ragazzo Nel pieno Della propria vita Ecco lui A quel punto Era già un professore Ha fatto un giro Del mondo Di un anno Andando a studiare È andato da Sai Baba Con cui ha trascorso un mese Li faceva da interprete È andato in un tempio buddista È andato in un tempio zen In Giappone Ha incontrato Gitananda Ha incontrato una serie Auro Bingo È andato a visitare Ci ha fatto una serie Di giri incredibili Fino a capire Che poi alla fine Al netto di tutte le speculazioni Filosofiche Il segreto Per riuscire ad uscire Da certa sofferenza mentale È solo quello del Buddha Ottumplice sentiero Partiamo dal primo Retta presenza mentale Cioè Vivere nella realtà Vivere nella realtà Che cosa vuol dire Vivere nella realtà? Vuol dire Abitare il presente È una cosa che non facciamo mai Io ad esempio Sono tendenzialmente Sono uno Che vive molto fuori Dalla realtà Magari sei in macchina Pensi a quello che devi fare A quello che hai fatto A quello che devi noi Cioè penso che capiti un po' a tutti Invece Il Buddha ti dice Oh Stai qua Stai nel presente Raffrontati col mondo esterno Non stare a A farti le Le seghe mentali E questa è una cosa Che però Tu dicessi Eh beh Banale Non lo fa nessuno Non lo fa nessuno Poi ti dice Retta comprensione Da quello che dicevamo prima Comprendere che Tutto è impermanente E tutto è interconnesso Se non capisci questo È inutile che ci giochi Sparati subito un colpo in testa Perché Cioè Sei destinato a partire Io quando vedo A volte mi capita No Vedrai anche te La televisione Cerco di vederla poco Però a volte vedo Queste attarici Queste donne Che magari sono state bellissime Che si fanno Delle impalcature Nella faccia Che diventano Delle specie di mostri E dici Santo Dio Ma tu lo devi accettare Il tempo che passa Che le cose cambino Cioè tu pensi Che sia contento Io adesso Quando vado a sua casa A vedere mio padre Che non cammina Mia mamma Che si scorda le cose Mio fratello Non ce l'ho più Ma se non accettassi Queste cose Non andrei avanti Con la vita Fa parte del vivere È un cerchio È un ciclo Cioè lo vedi A me è vedere Gino Paoli Una volta Mi chiedevi di anedoti Con Tonino Carotone Quando ha finito L'ultimo disco Prima della pandemia Dove tra l'altro Ho avuto la fortuna Di scrivergli un pezzo Proprio che parlava Di Don Gallo Gino Paoli Ha invitato Le persone Che hanno collaborato Il disco A casa sua Per un Un aperitivo Chiamiamolo Tra l'altro Gino Paoli Incredibile Ha quattro bagni In casa È una casa enorme Quattro bagni Infatti Beppe Grillo Ride e dice L'unica persona Con un culo solo È quattro bagni Infatti quando dice Scusi Posso andare in bagno Cioè Nord, sud, ovest Scegli tu Capito Vabbè Comunque Eravamo lì Con Gino Paoli Lui proprio disse Ma Si parlava anche Del fatto che lui È in là con gli anni Ha 84 anni Ma a me la morte Non mi spaventa Il cambiamento Non mi spaventa Io sono tranquillo Cioè vedo Le stagioni È tutto un ciclo Cioè arriva la mattina Poi c'è il pomeriggio La sera La notte Poi ritorna la mattina C'è tutto un ciclo Continuo Cioè questa roba Va Va assolutamente accettata Va 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 capito Quindi il secondo Nobile sentiero La retta Presenza mentale È la retta Comprensione Poi c'è il terzo Retta concentrazione Cioè Il comprendere Che noi non siamo I nostri pensieri Noi siamo soliti Immedesimarci Con i pensieri negativi Cioè noi pensiamo Una cosa brutta E diventiamo Quella cosa lì Ma il Buddha Ti dice Guarda che Tu non sei il tuo pensiero Sei quello al limite Che lo osserva Quindi inizia a guardarlo Come guardi Un'immagine bellissima Io me la ripeto sempre Quando sto messo Messo Osservala Come si osserva Il volo Degli uccelli Nella pace Lontana della sera Quelli sono i pensieri Ok E se non diventi matto Io guarda e dico Credimi Io qua Parla uno È quello che io ho cercato Di scrivere nel libro Di ripetere Allo stilimento Che è tutto Fuorché un santone Un guru È un illuminato Io sono un incasinato Cioè Il mio Il punto di vista È quello di Quello che ha i problemi Non che li ha risolti O che li risolve agli altri Cioè dire Io sono andato a cercare Sta roba Per cercare di uscire Da il casino L'ingorgo Che era la mia testa E con questa roba qua Qualcosina ho ottenuto Quindi Provateci anche voi Giacobbe Lui che invece È un illuminato Dice A me non me ne frega Troppo veramente Più un caldo Volo di venti Io sono Lui ti guarda Serenamente Ti dice Noi siamo Se posso Perdonatemi Lui parla un po' Ruz Noi siamo Dei Pezzettini Di brufoletti Sul culo Dell'universo Accettiamolo Accettiamo Il fatto Che duriamo Un nanosecondo E godiamoci Questo nanosecondo Tranquilli Che non c'è niente Di cui aver paura Siamo tutti E allo stesso tempo Niente E lui è molto Tranquillo così E devo dire Che lo applica Perché la serenità Che dà La senti Ecco Quando di sei Vicino Andando avanti Il quarto Nobile sentiero Quindi dopo La retta Presenza mentale Retta comprensione Retta concentrazione Dopo aver capito Quindi che tu non sei I tuoi pensieri Il buda ti dice E' inutile che ti stai A pensare a cose brutte Visto che il pensiero Automatico È un prodotto Involontario Della memoria Tanto vale Cambia il film Cioè se ti viene Da pensare Cose brutte Sostituiscile con cose positive Cose belle Perché intanto È uguale Fuffa uguale Però perlomeno Ti vedi un bel film Il senso è quello E ha ragione Assolutamente ragione Perché Allora Se c'è un problema Reale Qua davanti a te Tu l'affronti L'esempio che facciamo sempre Se io sono in aeroporto O meglio Se io sono su un aereo Che sta precipitando Lì allora giustamente Io mi impaurisco Mi spavento Ma non sto a pensare Oh mio Dio Cosa succederà Mi metto lì Cerco l'ossigeno Cerco di mettermi In posizione d'urto Prego Dio Se ci credo Faccio qualcosa Ma se io sono in aeroporto E penso Adesso salgo sull'aereo E cade Eh beh Se casca E pensa un po' L'impasto Pensa a cosa vivo Nel momento in cui sta cadendo Mamma mia Dio che spavento Morirò di infarto Morirò per lo schiaccio Cioè lì ti sei in nevrosi Cioè stai pensando A una cosa Che non è lì nella realtà Allora tanto vale Per stare a pensare A una minchiata Che intanto Non è reale Pensati A letto con Pamela Anderson O al parco Con il tuo figlio O a vedere Un quadro di Van Gogh Cioè È la stessa cosa Capito Cioè vale uguale Ok Questo è molto importante Poi vabbè ti dà Tre precetti morali Sono la Rettazione Rettaparola Retti mezzi di sussistenza Attenzione Il Buddha non ne fa Un discorso Filosofico O morale Lui ti dice Semplicemente Guarda Se tu ti comporti bene Oh guarda La mia meravigliosa moglie La mia Pamela Anderson È arrivata La mia famela Anderson Ma posso farla vedere mia moglie Dai vieni Certo 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 No no niente Dice che è in tenuto a casa linga Non si sente Ti saluta Saluta Ciao Lui ti dice Guarda la rettazione Non perché tu devi fare il bene Perché il bene Chissà quale valore assoluto Perché Siccome dentro di noi Nel nostro subconscio Noi sappiamo discernere bene dal male Se tu non lo fai Inconsciamente starai male Poi il tuo subconscio Ti tormenterà I retti mezzi di sussistenza E anche quello Cioè se tu fai lo spacciatore Non è che io ti dico Non farlo perché sei cattivo Ma poi Ci sarà un momento Nella tua vita In cui il senso di colpa Del tuo subconscio Che sa che hai fatto qualcosa Magari ti verrà lì A rompere le scatole Quindi evita Idemi il parlare male Degli altri La retta parola E poi c'è l'ultimo Che è il mio preferito Ma è quello che la gente Più si dimentica Retto sforzo Cioè il buddismo Si chiama pratica Tutto quello che vi ho detto Ti dice il Buddha Va applicato Cioè ci vuole uno sforzo Non è una cosa che fai così E vivi nel presente In pace Capisci Accetti il cambiamento Che non ti immedesimi Con i pensieri Ci vuole un'applicazione quotidiana Quindi il retto sforzo Come vedi Sono tutte cose Di buon senso Che poi ti consiglia Uno psicologo A cui dai magari Centra la seduta E invece con 9,90 euro Esatto Si si Oh buon caffè Buon caffè Io l'ho preso prima No no È veramente Fatto da una napoletana Devo dirti I disegni Che ci sono nel libro Che sono anche molto bellini I disegni sono proprio I disegni Guardi ringrazio Di avermelo chiesto Sono proprio di Daria Di mia moglie Mia moglie Lei ha fatto L'Accademia di Belle Arti Di Brera E ha sempre avuto Questo talento Io sono Fai conto uno Che non riesce neanche a fare Quando mio figlio Il piccolo Mi dice Papà disegna cagnolino Io ho fatto sempre Una diga Così per Dov'è Dov'è andato? Di qua Per farne vedere uno Che mi è cascato sotto mano No mia moglie È bravissima È bravissima Ha fatto la copertina La copertina è sua Che faccio rivedere L'abbiamo mandata Al punto di incontro Dicendogli Ragazzi ci piacerebbe Una cosa del genere Ho detto Ma è perfetta questa E quindi l'hanno L'hanno presa E E anche i disegni Sono suoi E Sono Davvero davvero belli Anzi Diciamo che Libera Ha pensato proprio Anche così Come gli hai Quali nitti Si vede c'è una bellissima C'è una bellissima relazione Tra il testo e il disegno Sì sì Era proprio questa l'idea Di dare anche un po' Non sono buttati lì Per Colorare Per coprire Per riempire Ma che sono Intessuti insieme Assolutamente Guarda È stato proprio una cosa Un lavoro Un lavoro di insieme Cioè il libro Poi alla fine È di tutti quelli Che l'hanno fatto È mio È del prof Giacobbe È di Daria Che ha fatto di me Dell'editore Allora c'è una domanda Piccoli haiku Giapponesi Quasi tutti Giapponesi Chissà se riesco A farlo vedere No Di qua Di qua O Questa ad esempio Ok Vabbè Comunque Ci sono diversi haiku Beh L'haiku È una forma Che io adoro È una forma Di poesia Giapponese Meravigliosa Con i miei amici Quelli malati Nerds Come me Molte volte Giochiamo agli haiku Nel senso Che ci mandiamo Agli haiku Eh bravo Esattamente questo Esattamente questo Bellissimo Praticamente sono Dei componimenti Super scarni Che solitamente Devono parlare Della natura Non sono mai Soggettivi Cioè Sono più una fotografia Non è che tu vai a È molto diversa Dalla poesia occidentale Dove solitamente C'è una sofferenza O comunque Un'emozione Lì è semplicemente Una fotografia Naturale Ed distante Che serve a dare pace E vengono fatti Cinque sillabe Sette Cinque Sette Cinque Quella è la È la forma Che devi tenere Per dirti Se tu vai fuori Da questo Da questa forma Da questa costruzione Non è un haiku Chiaramente poi Noi italiani Ne abbiamo adattati Perché È ovviamente Molto diverso Per flitterando E tutto quanto Esatto Però devo dire Che gli haiku Sono diventati Poi una forma poetica Bellissima Anzi Io tutti i nostri E quelle persone Ci stanno ascoltando Davvero Provate alla mattina Io a volte lo faccio Magari mi sveglio Dalla finestra E cerco di descrivere È davvero È quasi come un giochino Però bello Perché devi con Cinque sillabe Sette sillabe Cinque sillabe Andare a fotografare È un momento Occidentali Accidentali celebre Infatti ad esempio Nel libro C'è un haiku Jack Kerouac Che lui addirittura Aveva scritto Il libro degli haiku Un altro che fece Haiku straordinario È Leonard Cohen Vabbè Cohen Lui si chiuse In un monastero Buddista Sul Monte Rainari In California Per sette anni L'anatico del successo Lasciò tutto Lasciò tutto E si chiuse Per sette anni Perché aveva bisogno Di capire delle cose Cosa bezzissima E poi ci sono tanti maestri Giapponesi Gli ho presi Un po' su alcuni live Che io colleziono Di haiku E un po' Se ne trovano Comunque sparsi in rete Ecco Ce ne sono tanti Che sono davvero belli Ma tu sicuramente In Iberia Ne avrai raccolti Sì 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 Ne ho Assolutamente Assolutamente Qualcuno ha qualche cosa Da chiedere Qualcuno ha qualche domanda Così la rendiamo anche Più interattiva Sì sì Intanto che voi Pensate alle domande Io faccio un mini Un mini cappellino Allora Adesso Come adesso Con questo cavolo di covid Ci siamo dovuti Organizzare Riorganizzare Abbiamo riorganizzato Tutta quanta la nostra vita Tra cui anche Le presentazioni Presentazioni Ovviamente Non possiamo più farne Qua in Iberia Da fine febbraio E chissà Quando mai Potremmo rifarne Quindi ci siamo inventati Mi sono inventato Questa cosa Di provare a fare Le presentazioni online Abbiamo buttato lì L'orario delle 14 Perché è l'ora in cui Io faccio le dirette Tutti i giorni Vedo che ci sono Varie persone Parecchie persone Connesse Al momento E anche prima Spero che questa cosa Possa piacere Datemi un feedback Anche su questo La prossima settimana Ne faremo un'altra Poi vi faccio sapere bene Su che cosa Con un altro autore Vediamo Giovedì alle 14 Questa piccola finestra Sul mondo Per continuare A interagire Tra di noi Continuare A parlare di libri Tutti insieme Perché Alla fine Stoccovid Va superato E se non Lo superiamo Immediatamente Con la medicina E tutto quanto Lo superiamo Con la tecnologia Quindi Vediamo Di trovare Alternative Anche se avete Idee Consigli O critiche Su quello Che stiamo facendo Fatemi sapere Che sono molto utili Allora Allora Non avevo ancora Fatte Presentate Aveva fatto Una presentazione Con l'editore Sul sito Del punto d'incontro Gliel'ho chiesto io A Igor Di farla Ma perché Questa libreria L'amo ragazzi Non che non ami Le altre Ma diciamo Che nelle librerie Più generaliste Cioè tu trovi Quello che c'è in giro Il libraio Può essere più o meno Preparato La libreria di Igor È un mondo Ragazzi Di dentro Trovate dei libri Cioè voi dovete Seguire lui Che vi consiglia Delle cose Che magari Non ne saprete Neanche L'esistenza Se non lo seguite Io non le so Io molte volte Lo seguo Mi tira fuori Delle cose Che io non sapevo Neanche fossero mai Esistite Pubblicate in Italia E ti apre dei mondi Cioè lui è riuscito A farmi A trovarmi L'unica biografia Al mondo Su Carlos Castaneda Io non sapevo Neanche che esistesse Un libro scritto Da un francese Bellissimo Cioè se volete Qualcosa di diverso Che davvero Appre la mente Poi può esserci cose Che vi piacciono Cose che non vi piace Ma seguite E sostenete Questa libreria qua Perché è proprio Bravo lui Quindi davvero Eh ma è la verità Quanti sono 20 anni 25 Quanto è che sei di dentro Io sono qui dentro Come proprietario Da 4 anni e mezzo Quasi 5 A gennaio ne faccio 5 No ma che lavori Come libraio Neanche come libraio Sono 4 anni e mezzo Ma sono cliente Di questa libreria Da 21 Quasi 22 Eh 22 Quindi Insomma Nei vinsti Sì sì Ero parte dell'arredamento Quando ero adolescente E poi giovincello Quindi Quindi sì sì Diciamo che quando sono entrato qui Il salto del bancone È stato estremamente facile Ed estremamente naturale Perché sapevo già Dove fossero le cose Quali fossero le cose belle Quali fossero le cose importanti E tanti 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 Li avevo già letti A casa mia c'è una piccola retusa Sì Quando ho fatto l'ultimo trasloco Mi sono spaventato Perché ho fatto 25 scatoloni Di quelli di messaggerie Che sono Da 18 chili l'uno Qualcosa come 1000 euro di libri Ognuno 25 26 scatoloni Di libri Presi qua Mamma mia Abbiamo fatto un furgone E solamente i miei libri Di a retusa E basta Fantastica E quindi sì Il salto del bancone È stato estremamente facile Estremamente Estremamente facile Sì sì Poi Diciamo che prima del covid Eravamo anche un pochettino Più sereni Sì Tra l'altro Vedevo prima che è passato Se diceva qualcosa Sì 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 Questo qui di Vanessa Qualcosa che sopperisca Allo psicologo È sacro davvero Devo passare presto Grazie ragazzi Deve essere interessante Sì Era proprio anche questa Vanessa Proprio l'idea Perché Mai come in questo momento La mente va tenuta pulita Il corpo va tenuto in forma Sono tutta una serie di rituali Che sono davvero utili a noi Per non diventare male Anche perché è un periodo dove Come ti posso dire Sta venendo fuori Il gran casino Che ci Che ci siamo creati Saddur Un grandissimo mistico Orientale Che ora sta girando Gli Stati Uniti in moto Un tipo Veramente stranissimo In Italia è uscito Un suo solo libro Sicuramente tu avrai L'ha pubblicato Corbaccio Comunque Lui ha detto Una cosa molto interessante L'ha detto Ma il mondo Sta impazzendo Col Covid Lui ha detto Guardate che L'unica cosa Non in equilibrio Dell'universo In questo momento È la mente umana Tutto il resto Sta andando come deve andare Se c'è il Covid Se tutti questi virus Tutti questi Nuovi patogeni Fanno il balzo Dalle specie animali A quelle umane Perché gli abbiamo distrutto L'abitate in cui vivono Perché Li abbiamo costretti Se ne stavano là Per i cazzi loro Nella giungla Non venivano Certamente da noi Che sta in una grotta Nel centro Africa Nella giungla Asiatica Cosa te ne frega Di venire Ma se tu finisci Lo fai finire nel piatto Te lo mangi O li vai a rubare Da abitate in cui vive Questo è costretto A venire a cercarsi cibo Vicino a dove vivi tu Se ora la mutazione In 30 Mi hanno dovuto abbattere 30 milioni di visoni Perché Ma se continuate Con questa Aberrante pratica Di Ammazzare Delle bestie Per farci le pellicce Facci le visore ammassate Perdonate il fascismo Ma chi cazzo è Che si compra ancora La pelliccia di visone Tra l'altro Nel 2020 Perché ci devono essere 20 milioni di visoni Da pellicce In Danimarca Ma sai che io Me lo sono chiesto Allora Ai tempi Mia nonna Povera donna Che aveva passato la guerra E mi ricordo Che ai suoi tempi Il comprare la pelliccia Alla moglie Quando magari Il marito Andava in pensione Era tipo Ce l'ho fatta Capito Era la Aveva un senso Su un riscatto sociale Come i rapper Che si riempono di gioia Ma adesso Ragazzi La pelliccia Brutta C'è un animale morto Addosso C'è orrenda Dai Eppure E i visori O come il fatto Che di genere Gli antibiotici Non funzionano più Noi ci mangiamo La carne di maiale Di porco C'è di riempono E poi ci lamentiamo Se arrivano i virus Che cattivi Ma che cazzo Stiamo dicendo Ragazzi Cioè Quello che sono Ne raccoglie Non è che E sì E chi ne sta uscendo Molto male Chiudendo il discorso E tornando al libro Sono proprio i media Ti rendi conto Che anche i media Che comunque L'informazione Non è altro Che un megafono Del Chiamiamolo Del governo Che nel momento In cui Ti deve far paura Ti fa paura Nel momento In cui ti deve Dire tutto a posto Ti dice tutto a posto E non dietro come pecore Quest'estate Bisognava far salire L'economia Ci hanno detto Che il virus Era morto E quindi Tutti in giro A sbottare Champagne Nei locali Che se per un'estate Si stava Magari un po' più tranquilli Sembrava che Cadesse il mondo E adesso invece Ti stanno terrorizzando E la peste Perché Ci hanno paura Giustamente Che collassino Gli ospedali Quindi di fatto Cioè come ci si difende Da tutto questo Mantenendo il senso critico Ragionando con la propria testa Mantenendo la mente pulita Il più possibile E in questo Lo torno a ripetere Il messaggio primitivo Del Buddha L'applicazione psicologica Dello pubblico Nobile sentiero È una cosa necessaria Poi ce ne sono altri Magari Domani ospiterai Un autore Esperto Di cultura sciamanica Che ti dirà Che allo stesso modo I Siu O gli apaci Avevano trovato Cioè per carità Attenzione Sono tanti fiumi Un solo oceano Quindi per carità La strada Con cui tu arrivi Alla coscienza A un alto livello Di coscienza Sono tante Tantissime Io addirittura Nell'ultimo capitolo Che è il mio preferito Che si chiama Al Tribù D'Altre Stanze Cito una serie Di persone Che si sono liberate Che sono dei Tra virgolette Buddha Ma che cosa vuol dire? Le persone che Si sono liberate Dal gioco Della schiavitù mentale Dal gioco Della mente E che riescono a vivere Nel mondo Serenamente Aiutando gli altri Divertendosi Giocando con la vita E cito Don Gallo Ma cito anche Vivek Datta Che era Tic Natan Tic Natan Grandissimo Immenso Immenso Tic Natan Con te ne parliamo sempre I suoi libri Meravigliosi Ma anche Vivek Datta Vivek Datta Un personaggio incredibile Chi legge Tiziano Terzani Un po' Lo conoscerà Perché Tiziano Ne parla In un altro giro Di giostra Brevemente Nella fine Il mio inizio Vivek Datta Era un tipo Che viveva sull'Himalaya Sposato Tranquillo Nessuno sapeva niente Lui faceva una vita Molto modesta In questa casa Meravigliosa Sull'Himalaya In mezzo alla natura Viveva con la moglie Affittava Una casetta Sempre di sua proprietà Di vicino E Tiziano Terzani Quando si ammalò Di tumore Che voleva Uscire un po' Dal casino Della città Dei libri E andare a conoscere Se stesso L'ha affittata E ha scoperto Questo vecchio Che assolutamente Se ne fregava Del fatto che lui Fosse Tiziano Terzani Il grande scrittore Era uno Che aveva una conoscenza E uno studio Delle religioni Dal cristianesimo Al buddismo Assolutamente straordinario E che di notte Stava quattro ore Osservare una candela Completamente In pace Con se stesso Insegnò a Tiziano A meditare A trovare se stesso Ed era una persona Che il semplice Star di vicino Ti faceva Stare bene Cioè persone così Ce n'è tante Non necessariamente Devono fare cose Eclatanti Addirittura Tiziano Lo chiama il vecchio Perché lui ha detto Ti proibisco Di parlare di me Io non Non mi interessa Di avere gente Qua che vogliono Venire a sapere Chi sono Quello che faccio Lo faccio Perché lo devo Se è arrivato te Il maestro arriva Quando l'allievo è pronto E se ne va Quando l'allievo è ancora più pronto Quindi Finiamola lì Sono altre le cose importanti Ecco Ci sono tantissime Di queste Di queste persone E noi Il nostro compito Secondo me Nella vita Come dice il grande Batiata È conoscere E conoscerci E provare E elevare la nostra coscienza Fino a comprendere Di essere un tutt'uno Con questo incredibile universo Cioè che è la vita Alla fine Dio che cos'è La vita Siamo tutti È questa vita C'è nulla C'è la vita Poi si va Non voglio andare Nella speculazione Filosofica Perché Sì Allora Ti metto Un'altra domanda Di Claudio Cima Qual è il segreto Per una pratica Del messaggio Del Buddha È una bella domanda Questa Questa di Claudio Ma Allora Il Dalai Lama Lui parla sempre Dell'importanza Del Dharma Ma anche Thich Nhat Hanh Ne parla Cioè Se tu Frequenti Una comunità Di persone Che pratica Il buddismo Sei più supportato Nel praticarlo Anche tu Ok Nel senso Che magari La volta Che sei meno motivato Che magari Sei più Hai sempre qualcuno Che è sicuramente Più semplice Io ad esempio Non lo faccio Ma non lo faccio Per il semplice Fatto che Uno fatico A riconoscermi In un'unica Capito Per dire Adoro il buddismo Timetano Ho vicino Dove sto io La tara bianca Vado a volte A sentirmi Ma Parte che ora Con il covid È tutto più Complicato Perché non ci si vede più Però comunque Non ho Tutta quella Liturgia Che magari Loro hanno Non mi fa impazzire Allo stesso tempo Faccio molto da solo Cosa mi aiuta Il fatto di volerlo Poi Buddha Poi Buddha stesso Disse Una volta Rinato Non sarò mai Buddista Quindi Esatto Bravissimo Tra l'altro Ci ho detto Sei una Delle persone Con cui ti scambi Delle opinioni Aiuta Io ad esempio Per dire Io pratico Tu lo sai Abbiamo presentato Anche il mio libro Sulla meditazione Trascendentale Io faccio meditazione Trascendentale Boom Viaggio una meditazione Trascendentale Da cinque anni Sei anni Che medito Sette anni Anzi Mi è uscito Cinque anni fa Ecco per dire Con loro abbiamo Un gruppo Dove ci sono Cattolici Dove ci sono Induisti Buddisti Eccetera C'è un bello scambio Ci vediamo Una volta la settimana Per fare la collettiva Cioè meditiamo insieme Adesso lo facciamo Come stiamo facendo con te È buffissimo Siamo tipo in dieci Venti Trenta collegati E lì parliamo di Ora stiamo facendo Lo studio della Ti ho perso Fede ci sei? Non vedo più Federico I problemi della tecnologia Tanto bello E tanto comodo Ma quando lei decide Che non ce n'è Non ce n'è più Adesso Come facciamo? Ok Fede è andato giù Ok Adesso è proprio scomparso Allora Vediamo se riesce A ritornare Provo a Rimandargli È il momento di meditare Hai perfettamente ragione Ti metto in sovraimpressione Antonella Provo a rimandargli il link Vediamo se riesce a riconnettersi Arrivo subito Allora Federico sei Sparito Riesci A Rientrare Dal Link Vediamo Ecco Eccoci 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 Scusate C'è stato un problema C'è stato un problema Online C'è stato un problema Antonella È il momento di meditare E quindi No Di nuovo Mi sa che Allora Quindi se Diciamo che è il momento di meditare Sarà il momento di meditare Io vi ricordo Intervista col Buddha Di Federico Traversa Qua in libreria Ce l'ho Ce ne abbiamo Una bella Una bella montagna Federico neanche Autografato E scritto una dedica Su alcuni Appunto Dediche del tipo Relax Tutto scorre Piuttosto che respira Punto esclamativo Quindi anche dediche Ispirative Giuste per il momento Se volete Venire ad acquistarlo Qua in libreria Ne ho una montagna Se volete Scrivermi un messaggio Scrivetemi Come vi è sembrata Questa Questa proposta Di Nuova iniziativa Appunto Con le presentazioni In streaming Alle 14 Scrivetevi In vostro parere Direi che siamo Sul punto di chiudere Perché appunto Non abbiamo più L'ospite Che è stato Sbattuto fuori Da internet Giovedì prossimo Ripetiamo l'esperienza Con Andrea Pellegrino Indagare l'occulto Adesso Vediamo Vediamo anche se ci sono Se c'è qualche soluzione Per evitare Questi crash Terrificanti Allora Quindi Se Federico Non riesce A rientrare Giusto per un saluto Faccio io Gli onori di casa Vi saluto Anche da parte sua Se volete Scrivete Scrivete qui sotto Un qualche commento Un qualche messaggio Ovviamente Anche lui Leggerà Aspetta Torna Eccoci qua Ragazzi Non so cosa Mi dispiace Ho detto A sto punto Andiamo a meditare Sul serio Stavo facendo Il cappello Conclusivo Speriamo che Non scappi più No volevo dire A Claudio Quella benedetta domanda Che ci vuole Costanza Cioè una pratica Come alla mattina Ti dà i denti La faccia O cucini Devi dedicare Tutti i giorni Un momento Per andare a riscoprire Un po' Il tuo sé Un po' Quel pilota automatico Che sta dentro di noi Ad esempio Una cosa fondamentale È la meditazione Poi ce ne sono Duecentomila Io Pratico una meditazione Trascendentale Mi trovo bene con quella Ma ce ne sono Duecentomila altre C'è la meditazione Zen Meditazione Ce ne è mille Ma è importante È importante Proprio C'è il relativo E c'è l'assoluto Il relativo È la nostra vita Di tutti i giorni Le persone che incontriamo Leggere un libro Il mangiare un panino Gustavo Fare le cose Che ci piacciono E poi c'è l'assoluto C'è la riscoperta Nel nostro seno Andare dentro Con la sacralità Della vita Che ha la base Questo va fatto Costantemente Perché se non Conosci te stesso Dice Dice l'oracolo di Delphi Se non conosci te stesso Sei come una barchetta In mezzo al mare Se conosci te stesso Sei una barchetta Sempre in mezzo al mare Perché nel mare Ci sei sempre Ma perlomeno Sei ancorato A qualcosa di solido Cioè Siamo onde diverse Ma del medesimo oceano Cioè Se non capisci questo Si fa una gran fatica Poi a A sopravvivere E andare avanti Arriva la paura Il terrore Perché se tu ti immagini Come un cosino separato In questo mondo Allora È finita Conosci te stesso Assolutamente Poi c'è Tutta una serie Di cose da fare C'è una tua ritualità Che puoi darti Per rendere le cose Più piacevoli Ad esempio io Per dire Cerco di crearmi Una bella atmosfera Alla sera Magari In bagno Ho il mio Buddha La mia campana tibetana Mi ascolto Un certo tipo di musica Prima di meditare Cioè Leggo determinati libri Ma questo Più che altro Chiamiamola È la cornice È il divertimento Ma se mi trovo In una situazione Dove non c'è questo contesto Ciò non mi impedisce Di meditare Ho meditato Sull'aereo Nei bagni pubblici Ovunque Capito Perché Nel bisogno Fa star bene a me Quindi la meditazione È una buona base E poi la pratica Davvero Cioè Andarle sempre A ravvivare Queste cose Perché È importante Perché Sai cos'è Il casino Che succede Che tu magari Leggi un libro Una situazione Sarà capitato anche a te Magari ti piace Ti senti Che fa Fa per te Però poi Finito il libro Non ci pensi più Sei travolto da altro E poi si va un po' a perdere Invece le cose Vanno costantemente Ravvivate Ma è tutto Cioè Tutta la vita è così Cosa c'è Che tu te lo fai una volta E vale tutta la vita Neanche i vaccini Che ora fan tanto di moda Perché c'è la richiamo Capito Ecco Il vaccino all'ignoranza Pretende un richiamo costante Perché se no Ci metti un attimo Dopo una settimana Magari se di che giri la televisione Parte Barbara D'Urso Ti fa vedere il cane L'uomo con la testa di cane O la tipa Che ha fatto otto figli Con nove uomini diversi Tu stai lì Ma che cosa sta dicendo In un attimo Sei di nuovo dentro Hai perso Tutta la tua consapevolezza Capisci Invece L'intelligenza Ha bisogno di Essere costantemente Certo In questo momento La società Non ci dà una mano Accendi la tv Ti metti le mani nei cappelli Usando una metafora Di Monio Vadia Che per un esempio Che lui aveva fatto Sulla democrazia Lui aveva fatto Una metafora Nella metafora Dicendo quello che gli diceva Il suo insegnante Di fisarmonica Quando era ragazzino E studiava E diceva La democrazia è come la fisarmonica Se tu abbandoni la fisarmonica Per una settimana Non la studi per una settimana Lei ti abbandona per un mese E la democrazia è uguale La pratica La costanza Ci vuole Perché se tu molli La pratica Per una settimana Lei ti molla per un mese Mi fa impazzire Igor Perché ha l'anedoto E la massima Per ogni cosa È grandioso Grandioso E lui L'ho rubata Da Monio Vadia No no Ma tutti rubiamo Ragazzi Cioè Chi è che non ruba Queste cose Tra l'altro E poi un altro esempio È anche una vita consapevole Io ora sto cercando Disperatamente Di riportare Guarda L'altra volta Ero Ho avuto Guardi A te ti faccio una confidenza Non lo dico a nessuno Ma a te A chi ci ascolta Ho esaudito un sogno L'altra volta Ho Ho finalmente Parlato Seppur via mail Con un fitto scambio di mail Con Folco Terzani Che io adoro 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 Il suo modo di pensare È un esempio Per me E lui mi diceva Che ha ritrovato Stabilità Soprattutto sotto questa pandemia Ha ritrovato stabilità Forza Abbandonando la città E ritornando A vivere la natura La campagna Lui sta in un posto estremo Per stare all'Orsinia Eccetera Ma sono una comunità Piccolissima Io alla mattina Andiamo con gli altri papà A mettere a posto A rimettere a posto Le vecchie scuole A fare La capanna In montagna Per osservare L'osservatorio Eccetera Corro a piedi nudi Nell'erba Vedo i lupi E i cinghiali Vedo più lupi E i cinghiali Che esseri umani Ma qua la pandemia Non c'è Io non ho la percezione Perché non c'è nessuno Ecco Qua invece in città E tu Per me è stata anche La mia percezione Io abito in campagna Durante la pandemia Noi stavamo in mezzo ai campi Noi non abbiamo avuto Durante il periodo L'isolamento domiciliare Per noi non c'era Perché non avevamo Un domicilio Circoscritto Chiuso e compatto La mia piccola Ha corso Nei campi Intorno a casa Facevamo gli agguati Nelle bialere Per tutto il tempo È stato meraviglioso Assolutamente Questo è un esempio E io ora sto cercando Nei limiti Del periodo complicato Di fare anche io Quella scelta lì Mia moglie è d'accordo E ripartire un po' da lì Io non riesco più A vedermi In una città Piena di gente Dove c'è casino Dove c'è cemento Dove Non è quella Ecco Tutta una serie di cose Ritornando poi Alla domanda Di Di Claudio Il Buddha Se ci pensi Lui le città Le andava a traversare In pellegrinaggio Ma poi si ritirava Nelle foreste L'illuminazione L'ha avuta sotto un albero Non dentro Un luogo sacro O in un palazzo Eh sì Allora È passata un'ora Io direi che possiamo salutare E ringraziare Tutti quanti I nostri ascoltatori Assolutamente Vi ringrazio Mi scuso Per la Per la connessione Ricordo Se qualcuno Ha piacere Di prendere il libro Da Igor Ci sono le copie Autografate Non che il mio autografo Sia così importante Ma se Se qualcuno Ha questo Alvezzo Di collezionare Libri Autografati Igor Ne ha delle copie Sì 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 E comunque Andate a Seguire Veramente Quello che lui Fa quotidianamente In Liberia Più che altro Per scoprire Titoli allucinanti Che Che solo lui Conosce Grazie a tutti Grazie Fede Mi raccomando Tutti Tutti in forma Che Alla fine Di questo delirio Bisognerà Ricostruire il paese Quindi Mi raccomando Mi raccomando Mi raccomando Forza 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 A presto Ciao Un abbraccio a tutti Ciao ragazzi Grazie Aspetta Antonella Ciao a tutti Grazie Lo voglio anche se ho già il libro Quando si Caranto Guarda Scrivi Scrivi a Igor In privato Sì Ci pensa Ci pensa sicuramente lui Ringrazio Antonella Lei è una È un'amica Una lettrice Attenta Che molte volte Tra l'altro Mi dà degli spunti Di riflessione Importanti Quindi la Ringrazio Molto preparata Ci seguiamo A vicenda Quindi Grazie Grazie a tutti Allora Ciao A presto Ciao 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 Ciao